È stato uno spettacolo bellissimo, io sono un'educatrice, è un aspetto, una modalità nuova che avete proposto per affrontare il tema della droga, che penso sia la modalità giusta con la quale ci si può approcciare ai ragazzi, nel modo giusto per, da un lato, soddisfare ogni tipo di esigenza, ogni tipo di curiosità e nel contempo anche dare le giuste informazioni. Quindi complimenti. Quindi è un percorso, li accompagniamo, ma si fanno prendere, hai visto come sembra? Assolutamente, avete accatturato l'attenzione, sono stati un'ora e mezzo fermi, a curiosità le domande hanno dimostrato l'interesse sul tema.